Il festival è nato l'anno scorso, 2013. Il festival è nato come un evento che potesse far conoscere alla gente, alla gente comune, quanto sono valide, quanto sono interessanti e quanto sono utili le discipline olistiche e le cure dolci. Quindi questa è un'occasione che dura tre giorni, un tempo breve di un weekend, ma che raduna una cinquantina di centri e scuole di discipline bionaturali, dalla iurveda, allo shatsu, dall'agopuntura, alla chiropratica, a cose anche più particolari, tipo il metodo Greenberg, che è un metodo per riposturizzare l'assetto della persona. E ci si può anche avvicinare con delle esperienze pratiche. Il festival appunto si chiama Olis perché quello che vogliamo sottolineare è l'aspetto del tutto. Noi non siamo una parte staccata dal mondo in cui viviamo, ma siamo solo una piccola particella di questo immenso organismo che è l'universo. In questi tre giorni abbiamo avuto dei laboratori straordinari. Abbiamo avuto ospiti d'eccezione come Pier Giorgio Di Freddi, un matematico che ha per noi unito questi due campi, la matematica, quindi la logica e l'estrema razio, insieme alla spiritualità, all'olistica, quindi al mondo del tutto. A Olis Festival avviene un pubblico trasversale, molto curioso. dai due anni del nostro visitatore più piccolo agli 87 del nostro visitatore più anziano, in mezzo c'è un mondo di uomini e donne, ragazzi e ragazze veramente interessato a quello che facciamo. Tantissimi sono curiosi, gente che ha sentito parlare di olistica ma non sa bene a cosa riferirsi. Molti invece sono, una larga parte, sono operatori o gente che già fa agopuntura, fa chiropratica o fa, segue lo yoga, insomma, che è già dentro nel nostro mondo. Insieme fanno una platea di persone estremamente gradevoli da intrattenere. Grazie. 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 Grazie.